Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi e da oggi la serie di mondo di cubi cambia infatti ho aggiunto la shader mode che questa qua che state vedendo che implementa il movimento delle foglie, il movimento dell'erba anche solo in alcuni punti e come dite la luce, vedete che implementa le ombre diciamo che è una miglioria nel pacchetto grafico di minecraft e anche il portale come vedete cambia e diventa più, non so come posso definirlo, più bello adesso vi farò vedere anche l'altro tipo perché ho due tipi di questa mod e comunque prima di cominciare l'episodio, visto che ho anche l'albero davanti voglio ringraziare, ma soluto salutare, un mio iscritto che mi ha chiesto di essere appunto salutato che si chiama Alberomaestro576 ragazzi è un iscritto veramente fedele posso dire perché è dal non episodio che mi segue quindi lo ringrazio veramente pensate dal non episodio che è stato un sacco di... sono passato anche dei mesi penso si, è passato un sacco di tempo dal non episodio e per questo ti ringrazio e spero che tu voglia continuare a seguirmi comunque adesso metto un attivino in pausa il video anzi no, nel caso che metti in pausa posso salvare e far vedere che se vado su shader ne ho un altro tipo ve lo faccio vedere e ok dai ricaricati ok vedete che è molto più luminoso e l'acqua diventa di questo tipo qua, vedete? diventa, non so come definirla trasparente, si non è che non so come definirla diventa trasparente ragazzi e non so, ditemi voi quello preferito io per adesso terrò l'altro perché questo qua per registrare è un po' troppo luminoso forse è meglio che abbasso la luminosità vediamo un po' così eh, si però non cambia no, no, no eh, non cambia molto allora, aspettate tanto vale, teniamo questa ok comunque ditemi voi cosa preferite adesso rimetto l'altra penso che questa qua non mi ispira tantissimo quindi rimetterò questa ok, fatto torna al gioco perfetto ragazzi quindi ho salutato anche il mio iscritto e spero che eh, voglia continuare a seguirmi come sta facendo e nel frattempo faccio vedere che qua ho demolito cioè qui c'era una coltivazione l'ho demolita perché qua ci saranno dei progetti molto presto e adesso che siamo qua dentro vi faccio vedere che eh, poso un po' di roba tipo questo grano e devo trasformare anche le canne da zucchero in carta e si perché voglio farmi ancora un po' di smeraldi mi piacciono troppo forza ok perfetto eh, vediamo un po' smeraldi smeraldi uno un bianco che mi che vende la carta eh forza forza chi compra della carta qua non penso che ce ne siano neanche più che vendano che comprano carta ai 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 tu compri no tu non compra non vuole comprare tu tu non vuole comprare peccato dai forza uno che vuole comprare un po' di carta ragazzi è utile la carta la potete anche usare per pulirvi non dico cosa e no niente ragazzi non c'è nessuno che compra della carta no lo farò poi off camera oppure aspetteremo che ci sia che che nascano altri villager e ok ragazzi quindi questa carta qua la posiamo poso anche i semi e che cosa facciamo in questo episodio ve lo dico subito aspettate sono andato off camera a controllare la gallina gigante e penso che ormai sia quasi pronta che cosa ho fatto in questi episodi che vi dicevo che stavo facendo dei lavori di manutenzione praticamente io andavo in questo vecchio pollaio che ormai non lo usiamo praticamente più e entravo di qua solita cosa e prendevo le uova però ormai queste galline uova non le fanno più anche perchè sono poche quindi direi che le facciamo fuori tutte fuori tutte ciao ciao comunque questa mod per chi vuole scaricarla vi dico soltanto che pensateci due volte perchè causa un diciamo un drastico calo dell'fps io ho un computer di fascia media alta come ve l'ho già detto sicuramente e quindi non ho problemi però qua con questo già con questa mod si si dimezzano l'fps e dimezzare l'fps vuol dire che veramente questa mod occupa un sacco comincio a rompere anche questa coltivazione che ormai è diventata praticamente inutile non la stiamo più usando e un'altra cosa che ho aggiunto in questo lo so oggi ragazzi ci sono un sacco di novità un'altra cosa che ho aggiunto è questa se io clicco ctrl o lo zoom posso zoomare ragazzi vedete perché posso zoomare perché oltre alla shadow mode ho introdotto anche la optifine mode e quindi appunto pensate l'optifine mode è un'altra funzione che ha dimenticavo di dirvelo è quella di migliorare le prestazioni e però la shadow mode deve appunto invece ad abbassarle per la grafica no quindi io ho avuto un dimezzamento dell'fps nonostante avessi pure una mode che deve aumentarli quindi pensate quanto è pesante la shader quindi pensateci due volte prima di metterla e e niente ragazzi adesso non so personalmente così mi piace mi like abbastanza abbastanza carina mangiamo una bella bistecca e l'altro l'altro tipo anche nell'acqua vedete che la visuale cambia un sacco però come vi dicevo prima vabbè poi cambia nell'altra cambiava anche il sole cambia un sacco di cose se riesco a parlare comunque lo ripeto come dicevo prima c'era una nell'altra versione c'era questa luminosità troppo forte che personalmente non mi piace ditemi voi come l'avete vista magari anche su youtube si vede male se vi piace il più io gioco anche con quella per me è indifferente sto saltando con un mongoloide per rovinare queste coltivazioni a parte che senza acqua dovrebbero morire da sole devo rompere soltanto queste qua che sono vicino al mare e boom al mare al laghetto muori muori e poi niente ragazzi comunque avete visto quanto è calata la e devo far fuori anche voi adesso dove scappate si ragazzi devo far fuori anche i maialottoli ah ma a proposito di maialottoli posso farli fuori direttamente con la spada indiamante perchè se non sbaglio aspetto di fuoco dovrebbe darmi la bistecca cotta quello che vogliamo fare dal quinto episodio ragazzi pensateci un po' e vediamo un attimino e forza di qua questa ce l'ha aspetto di fuoco si ce l'ha aspetto di fuoco e come se ce l'ha cioè ragazzi guardate questa inquadratura che figata che è il sole che entra dalla finestra e lascia la classica lucida anche di qua vedete lo so sono piccole cose che però anche viste da voi vi piaceranno sicuramente perchè è un altro gioco praticamente adesso e non oso dire forse che ne è valsa la pena di mezzare l'fps perchè comunque ha una buona giocabilità comunque e e niente ragazzi adesso qua faccio fuori tutti questi maiali e mi becco tutte quante le loro cotolette costolette costolette perchè dico sempre cotolette è ormai una la prassi cotoletta e anche qua abbiamo fatto fuori tutti ok perfetto e e niente ragazzi allora adesso direi che metto un attimino in pausa finisco il video di questa parte ci vediamo tra pochissimo guardate il tramonto quanto è epico una cosa assurda bellissimo e appena sprecce il sole guardate qua diventa tutto scuro ho fatto e anche le luci vedete che prendono ah dimenticavo guardate la cosa più figa di tutte qual è aspettate appena riesco a farvela vedere ecco vedete questa luce che esce è la luce della luna la luna fa luce assurda guardate alla luce della luna com'è bello il golem e questo qua cosa ci fa la porta aperta chiudete la porta maleducati allora ragazzi vi faccio vedere anche che ho aggiustato la casa qua infatti i villici hanno deciso di entrare e e niente ragazzi quindi adesso abbiamo più porte per i villici loro saranno contenti sicuramente e direi che uh guardate qua la gallina che comincia a fare le uova bravissima mi scrivono pure su skype perfetto e e e ovviamente ragazzi allora facciamo così e vado a dormire e poi vi spiego cosa voglio fare anzi meglio ve lo spiego mentre che dormo perché siamo dei pro allora ragazzi e il piano è questo escluso questa stanza che rimarrà in cobblestone questa casa voglio voglio buttare giù tutti i muri voglio buttare giù tutto e voglio sostituirla con una riga di marmol di oh c'è questo marmol di stone brick e il resto tutto di legno scuro il problema è il legno scuro sta bene con il nether brick e lo scopriamo subito come andando ad abbattere un po' di alberelli nella nella taiga vediamo se incontriamo qualche mostro così vi faccio vedere anche i mostri come sono più belli illuminati e guardate il creeper creeper il creeper che è il simbolo di minecraft proprio vieni giù un secondo fatti vedere guardate vedete che il suo verde diventa più colorato possiamo dire ti finisco con l'ascia ok troppo pro troppo pro perfetto ragazzi allora andiamo veloce veloce la per buttare giù quegli alberi qua c'è anche della carne di zombie che però siamo pieni cavolo siamo pieni facciamo così non basta via l'uovo no via la freccia la freccia ne abbiamo 500 ok ci inseguo il ragno no e ok ragazzi io comincio a buttare giù un giusto un alberello guardate le foglie che cadranno tranquillamente sempre allora questo ragno qua cosa vuole mi ha già dato le palle forza forza andiamo in casa veloci e questo spazio qua ho deciso che potrei anche illuminarlo perché diventa un po' pericoloso allora ragazzi forza veloce veloce andiamo in casa e proviamo a fare un muro forza ok scendiamo giù e ci servono bisogna posare prima di tutto un po' di roba perché abbiamo troppe cose posiamo questo e posiamo questo e posiamo anche la della terra non è mica un po' troppo alto il volume no un po' di musichetta in sottofondo ci sta sempre forza posiamo la terra non abbiamo tempo da perdere forza forza ok prendiamo due pezzettini di ferro ah no dove hai due pezzettini di ferro il primo comunque si avevo ragione ci servono altre cesoie ok proviamo a buttare giù il primo muro poi il resto lo farò off camera perché è una cosa molto noiosa vedete anche le righe che si formano quando rompi una cosa e sono più chiare si vedono meglio con questa mod buttiamo giù anche l'altro muro forza dai e buttiamo giù tutto perfetto ragazzi vediamo un po' come sta non sta proprio malissimo no dai sta abbastanza bene allora ragazzi adesso continuo e nel prossimo episodio cerco di aver fatto il più possibile e si quindi questo vuol dire che anche per questo episodio è tutto ragazzi logicamente queste bruttissime valli se le tolgevo a tutte e spero che questa mod vi sia piaciuta ditemi in un commento cosa ne pensate e niente ragazzi per questo episodio è tutto io vi saluto ciao a tutti